Benissimo, la missione di oggi è riprendere la molletta che mi è caduta, perché mi è caduta, mi amore so che sto vestito male, ma sinceramente oggi ho piaciuto di lavorare più in casa che dopo vi sarei caduta. Allora, la missione di oggi, comunque come ho detto prima, andare a prendere la molletta che è caduta, questo è tipo il secondo video e non è uno source, quindi vabbè, lo chiamerò missione, cioè non lo chiamerò, voi state leggendo nel titolo, missione, prendere una molletta, incredibile questo titolo, voi aprite questo video e chiamate uno scemo che prende una molletta, incredibile. Mi sta spiando qualcuno, mi scappo, ok, questa è la molletta che mi attaccherò ai capelli e non so perché, comunque, niente, non salgo, edito il video, edito il video, e, niente, però questa molletta mi sta molto bene, sinceramente me la tengo proprio, ora mi faccio i capelli color molletta rosa, mi sta pure bene quella maglia. E, comunque, vorresti suscitare che è del 2020 questa maglia che lì mi sta a miniscola, però me la sono messa. Io vi saluto, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ciao!